Nuova pavimentazione, nuovo impianto audio e sedute rinnovate. Il cinema Eden in centro storico, dopo una breve chiusura estiva per lavori, riapre in questi giorni in una nuova veste. Un piccolo cinema indipendente che riesce a rimanere aperto vista la concorrenza delle multisale è già una notizia, se poi fa anche degli investimenti è quasi uno scoop. Il 40% dei lavori è rimborsato dagli incentivi statali per le piccole sale cinematografiche, il resto viene dalla volontà dei proprietari di mantenere viva questa realtà. Noi abbiamo il nostro pubblico, la nostra programmazione, andiamo avanti tranquilli, però se ci sono solo io che porto avanti e tutti gli altri chiudono, il centro va a morire. Tu guarda quest'anno, io ero a casa d'agosto perché avevi lavori, non c'era un bar aperto. Tra mille difficoltà l'Eden se rinnova e le iniziative si moltiplicano grazie alla passione delle generazioni più giovani, ovvero il figlio di Ossani, Brando, che già dall'anno prossimo avrà in mano le reddini del cinema. Stacca i biglietti da quando aveva 14 anni ed è stata sua l'idea di proiettare le pellicole in lingua originale lunedì sera, evento che sta riscuotendo successo, soprattutto tra i ragazzi americani e australiani delle università straniere in centro. Sono contento del rapporto che ho con il mio pubblico, mi piace molto, è come se fosse parte tutti di una famiglia, non lo so. Loro vengono, mi chiedono consigli, si discute se li consiglio male, si discute se li consiglio bene, non lo so. Mi piace il rapporto che si è creato qui, tipo Cineforum. Dalla nuova stagione il mercoledì ci sarà un aperitivo a base di piadina, un omaggio alle origini romagnole degli Ossani. Il biglietto per vedere il film in quel caso costerà meno. Inoltre, dopo tutte queste iniziative, a me piacerebbe provare a creare un festival cinese o comunque cercare di includere di più la comunità cinese e pratese e cercare di creare, basando su quattro lunedì, varie rassegne cinematografiche un film cinese o comunque orientale, con annesso aperitivo. Vediamo se il Comune riesce a darmi una mano.